Si è avvicinato repentinamente ad un'auto, ferma il semaforo nei pressi dell'ospedale San Donato di Arezzo, poi ha aperto lo sportello ed infine è scappato con la borsa di una donna appoggiata sul lato passeggero. Il ladro adesso è stato però arrestato dalla polizia di Stato. Si tratta di un 29enne italiano finito in manette dopo essere stato beccato in flagranza in un altro furto, sempre con le stesse modalità, commesso a mezz'ora di distanza dal primo, sempre con lo stesso obiettivo, un portafogli. A lanciare l'allarme chiamando la sala operativa della questura era stato un cittadino che aveva appena assistito al furto della borsa. Arrivati sul posto gli agenti hanno accertato che la vittima era riuscita a recuperare l'area furtiva prima del loro intervento e poi si era allontanata. Così sono schiattati i servizi di osservazione dei poliziotti in borghese che hanno rintracciato il 29enne nei pressi del parco del Colle del Pionta dove aveva tentato un altro furto. I poliziotti sono così subito intervenuti e lo hanno fermato mentre tentava la fuga. Nei suoi confronti è scattato l'arresto in flagranza per furto aggravato. Il portafogli con dentro documenti, carta di credito e denaro in contante è stato invece restituito al legittimo proprietario.